Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati all'appuntamento di oggi, sto perdendo il conto del calendario, non mi rinvengo più la mattina a dirvi che oggi è mercoledì 16, mercoledì 16 gennaio 2019, no stavo scherzando, me lo ricordavo benissimo che era mercoledì 16, anche perché poi c'ho il vantaggio che c'ho qui davanti i giornali e di là c'è Giampiero Pucci, mercoledì 16 Pucci? Confermi? Non ti sento brillante Pucci, vabbè, allora gli ospiti di questa mattina sono con noi in rappresentanza della ginnastica ritmica Lucca, reduci dal bell'impegno che hanno avuto, bello e anche gravoso impegno con il decimo trofeo Irene Bacci, il presidente della ginnastica ritmica Lucca Giannicola Bacci, buongiorno Giannicola, buongiorno Guido e la responsabile tecnica possiamo dire, il tecnico del giudice Angela Gironi, sempre della ginnastica ritmica, buongiorno Guido, intanto Giannicola so che hai rispettato l'impegno ma diciamo alle 9 dovrai lasciarci, sì, motivi familiari, no vabbè non c'è problema, quindi alle 9 ti libereremo, rimarremo poi con Angela, quindi questa prima parte Angela magari daremo un po' più di spazio al presidente. Allora, riepilogo delle puntate precedenti, vi ricordo 360 1038 330, se volete intervenire come avete fatto nelle mattinate scorse, siete stati tantissimi, naturalmente per fare domande ai nostri ospiti ma poi anche per eventualmente fare le vostre riflessioni e domande anche su quelle che sono le notizie della mattina, adesso le andremo a leggere. Riepilogo delle puntate precedenti, ginnastica ritmica Lucca, diriamo Giannicola una breve infarinatura, da dove arrivate, quando nascete, come funzionate, cosa rappresentate oggi, cosa è oggi la ginnastica ritmica Lucca? Certo, noi siamo qui a presentare un bilancio del trofeo Renebaci che però è la punta dell'iceberg di un'attività che noi facciamo da oltre 30 anni, infatti proprio a ottobre dell'anno scorso, il 2018 abbiamo festeggiato i 30 anni di attività. 88 quindi? 88, esatto. E cominciò a perso tua mamma. Esatto, la società fu fondata da varie persone tra cui c'erano i miei genitori, Irene e Gian Piero Bacci che purtroppo nel corso degli anni poi ci hanno lasciato e io ho preso il mano e il testimone, ho reeditato questa società e la porto avanti nel loro ritorno. Anche nel loro ritorno. Quanto è cambiato, quanto è cresciuta la società diciamo da quel 1988 quando ancora, siccome prima parlavamo di atleti dell'est, quando ancora non era caduto per dirne una, il muro di Berlino, perché il muro di Berlino saranno quest'anno il 9 novembre e saranno 30 anni, no? Se non ricordo male le date, poi se ogni tanto faccio confusione con le date, vi prego, abbiate pietà di me. Allora, quanto è cambiato? È cambiato tanto, è cambiato veramente tutto il mondo legato alla ginnastica ritmica, prima era uno sport diciamo abbastanza giovane, giovane, anche poco conosciuto, insomma. A differenza della ginnastica artistica. Artistica, che ha radici centenarie, la ginnastica ritmica è uno sport abbastanza recente e diciamo mia madre fu abbastanza una pioniera per provare questo sport e fu infatti la prima società fondata a Lucca in quegli anni. Poi da lì diciamo il percorso è stato lungo e poi ci sono formate altre realtà nel territorio, però noi siamo quelli un po' che abbiamo sempre portato avanti questa idea della ginnastica ritmica e io sono presidente dal 2006, quindi sono 12 anni ma ho sempre vissuto per motivi familiari in questo contesto, per cui diciamo ho visto l'evoluzione di questo sport. I numeri cosa dico, i numeri come praticanti, agonisti si parla ma anche di ragazzine che vengono ai corsi, no? Esatto, noi abbiamo un'attività di avviamento alla ginnastica ritmica, di psicomotoria, quindi sono bimbe dai quattro anni in su che per i primi appunto anni fanno i primi rudimenti della ginnastica, si divertono molto in palestra, condividono tante emozioni con le loro insegnanti e poi c'è un settore più diciamo agonistico che fa le gare di federazione, degli enti di promozione, noi si parla come numeri intorno ai 120, 150, dipende dagli anni iscritti. Non male. Angela Gironi invece come arriva alla ginnastica ritmica? Penso che il tuo retroterra nasce dal fatto che l'hai anche praticata, se non ricordo male. No, non l'hai praticata. Assolutamente no, con mio dispiacere odierno, io mi ci sono approcciata. Vorresti la macchina del tempo per tornare indietro. Bravo, bravo. Non so che doti avrei avuto, però l'amore per la ginnastica ritmica di sicuro. Quindi come sei arrivata? Come mamma. Io ho avuto una bimba che a quattro anni e mezzo, forse te l'ho già detto, ha cominciato a praticare ginnastica ritmica nella Ritmica Lucca perché conoscevo loro per motivi professionali e mi disse ormai la mia mamma fa questa attività che io non conoscevo assolutamente e la mia bambina ha cominciato a fare ginnastica. Era piuttosto portata per cui ha cominciato un percorso agonistico e quando, come forse saprai, le mamme delle ginnaste agoniste sono le mamme, le famiglie, sono molto impegnate perché è uno sport, come tutti gli sport agonistici, molto impegnativo anche per le famiglie perché le ore sono tante in palestra, perché gli impegni sabato e la domenica sono molteplici, quindi le famiglie sono sollecitate da questo punto di vista, fuori dalla palestra però presenti e quando appunto è mancata Irene, i figli, lui e il suo fratello ci chiamarono, le mamme delle agoniste e ci dissero o ci diamo tutti una mano perché Irene era veramente la colonna portante della società della Ritmica Lucca e quindi quando è mancata lei per noi è stato un vuoto molto difficile da riempire, in certo senso un vuoto forse non si riempirà mai però e da lì si è diventata poi addirittura giudice, quindi vuol dire che si entra proprio dentro e che poi se vuoi fare il giudice evidentemente deve anche capire certe cose, fai dei corsi, sostieni degli esami. Ci sei proprio appassionata? Io sono giudice nazionale ormai da qualche anno, quindi non giudico più solo le nostre ragazze alle gare ma sono andata anche in trasferta negli interregionali a fare la giudice neutra per la federazione e poi sono anche tecnico perché le due cose vanno abbastanza. Quindi alleni anche le vostre ragazze. Quando posso sì. È stata brava Giannicola mi sembra, no? Bravissima, bravissima. Perché sarebbe stato, sarebbe facile pensare, ora poi come sono tanto già arrivato un messaggio che uno che ha praticato lo sport chiaramente insomma ha più, diciamo si dice cognizione di causa, lei non l'ha praticato infatti ora, poi adesso mi sono ricordato che mi aveva già detto, per via della figlia, però e quindi sta molto brava direi, nonostante che sia tifosa della Juventus, aperta e chiusa a parente, la parola Juventus, la penna c'è. Poi Angelo è modesta, non ha detto che lei ha un ruolo fondamentale in tutte le nostre attività pubbliche perché lei è lo speaker ufficiale, lei parla, parla al microfono per delle ore. Infatti senti che capacità, che dialettica, che spigliatezza che c'ha. Va bene dai, 360 10 38 330, leggiamo un po' il fascicolo della nazione, poi cominciamo a vedere le immagini del trofeo Rianevacci, stiamo un po' nel dettaglio anche perché Giannicola come detto poi alle 9 ci deve lasciare. Allora, la nazione Lucca, coppia d'assi, coppia d'assi, qui c'è da capire se la coppia d'assi sono l'assessore del comune di Lucca e Mimmo D'Alessandro, sicuramente lo sono, ma ancora più di loro sono Ennio Morricone ed Elton John, due insomma grandissimi artisti nel campo musicale. Ora, Elton John grande, Ennio Morricone, prima detto di dire, ancora di più grande, ancora di più grande, veramente Ennio Morricone è una cosa fantastica, diteci la vostra anche su Ennio Morricone, se volete dire la vostra, ma io non lo so, voglio coinvolgere anche gli ospiti, tanto diciamo che Elton John ed Ennio Morricone, Ennio Morricone il 27 giugno, Elton John il 7 luglio saranno ospiti del Summer Festival sotto gli spalti delle mure urbane, nella zona, tanto per capirci, l'ha fatto il concerto dei mitici Rolling Stones, Roger Waters e compagnia viaggiante, no? E quindi adesso poi studiamo in generale. Allora, Ennio Morricone, Elton John? Eh, Elton John lo conosco. Messa con le spalle al muro devi andare ad uno dei concerti, dove vai? Ah, Ennio Morricone. Ennio Morricone, però, sì, Ennio Morricone, tu Giannicola? Ennio Morricone è un più, un classico, è più un maestro che ha accompagnato tutti questi anni della filmografia internazionale, ma Elton John ha anche il suo perché. No, 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 però ora non vorrei che poi gli appassionati di Elton John, poi mi mandano i messaggi, io lo stravedo per Elton John. L'ho già visto Elton John. Ah, sì, ma siccome è la terza volta che viene a Lucca. E quindi Ennio Morricone no. Io ripetisco, ripetisco che Guido Casotti, per quello che conta, cioè nulla, è ancora, è rimasto, ma insomma, a Mina, Celentano, l'estate scorsa sono stata a vedere Gianni Morandi, sono, io sono alla musica italiana a quei cantanti, però Ennio Morricone, ragazzi, cioè, se penso alle musiche mi viene in mente, non so, c'era una volta in America, che è il capolavoro per eccellenza, secondo me, ma c'era una volta all'Ouest, poi adesso altri film. Dite un po' altri film che vi sono piaciuti con le musiche di Morricone, dai, 360 1038 330. Andiamo a sogliare all'interno la nazione. Allora, Summer Festival, Elton John raddoppia, show spostato al Balilla, perché Elton John doveva tenere il concerto in Piazza Napoleone, in realtà è stato spostato lì al Balilla. Il 7 luglio la capienza portata a 16 mila, che credo poi è la capienza anche per Ennio Morricone. Poi la cosa curiosa è che sia per Ennio Morricone che per Elton John saranno gli ultimi concerti, concerti da Dio. Pare di sì. Il maestro Morricone sceglie le mura, l'evento il 29 giugno sarà l'ultimo live, pensate, della carriera. Quindi il maestro Morricone ci fa anche un grande regalo. L'ho convinto grazie al suo amore per Puccini, dice Mimmo D'Alessandro, che quindi ha messo a segno, insomma, due colpi, mica da ridere. Altre tre date in arrivo, però Mimmo D'Alessandro non c'è stato verso neanche con la forza di strappargli i nomi. Altre tre date in arrivo e due big a settembre. Ora però, Mimmo D'Alessandro, ecco, però il nome di un big, sta un po' circolando, è quello di Paul McCartney, uno dei mitici fourth, di quattro di Liverpool, no? Sì, sì, sì. Paul McCartney, io penso sia leggenda, è colui che dicono che in realtà si è morto tanti anni fa e che adesso, poi si è arrivato un sosia, vabbè, ma io penso che sì. Siamo con le Olimpiadi di Londra, nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Londra. Sì, sì, vabbè, comunque diciamo che è uno dei quattro Beatles che hanno scritto veramente pagine memorabili negli anni 60. Adesso ci facciamo un po' più seri perché a pagina 5 parliamo dell'assassino, anche l'assassino, no? L'assassino di Vagna, Vannucchi, non si arrende, va in Cassazione contro la condanna, nuovo avvocato difensore ricorso, no a premeditazione e stalking. Eccolo qua, Pasquale Russo, sconta 30 anni, in carcere a Prato, punta a ottenere l'annullamento della sentenza di appello. Eh, vabbè, vediamo un po' quello che succede, ricordiamo era l'agosto del 2016, quando successe questo fatto veramente tragico che colpì tutta la città di Lucca e non solo. Il mercato si sta svuotando, altri posti lasciati liberi, più controlli sugli illegali. Confesercenti lancia l'SOS e detta la ricetta. La ricetta, poi si parla del traffico, via l'Europa non si farà la rotonda per via Salicchi, soluzione nel 2021. L'assessore Marchini, ingresso in città, alleviato dal piano Sant'Anna. Poi c'è questa vignetta di Sesti, dell'amico Sesti, PM10, sforamenti oltre la media. Sono questi due signori, uno che dice all'altro qui a Lucca, sono saliti alle stelle, è l'altro che gli indica, infatti quello è Bindocci, Bindocci, noto rappresentante, nonché sindacalista del movimento 5 stelle. Sempre diciamo pungente la penna di Sesti, sì come no. Poi sociale, aiuti dati e poi tolti hanno disoccupato, il caso approda in consiglio comunale. Vado un po' di corsa a vedere anche a Capannori, dove si parla del Carneval Marlia. È una rivoluzione sfilata senza premi e ingresso gratis. Dopo 110 anni niente gara, tutti i rioni unendosi hanno già vinto. Questo è bello, perché poi io non le vedo molto queste manifestazioni come una gara. È qualcosa che ognuno propone il suo. Poi, alle medie armadietti stile college, gli studenti a scuola senza lo zaino. Rivoluzione europea, dove i ragazzi lasceranno libri e quaderni. Vediamo spesso ragazzi anche piccoli con questi zaini enormi, che veramente li fanno quasi piegare su se stessi. Medievale Garfagnana, schiarita per l'eterno e scatta la clausola sociale, lavoratori tutti salvi. Pialli della Cis, ottiene garanzie dall'assessore. A Gallicano, occhio a chi suona il campanello. Corsi antitruffa, i nonni a lezione. Consigli del maresciallo della Guardia di Finanza, Pompili. L'abbiamo detto più volte, soprattutto alle persone anziane, non vi fidate. Io lo dico sempre. Non vi fidate. A costo di respingere persone bravissime, persone oneste, tutto quello che volete, la gente alla porta, non deve venire a vendervi nulla. Non vi fidate, perché poi ci sono sempre malintenzionati, ci sono sempre i soggetti poco raccomandabili. Da donna del mistero, la morte della Circe, si parla di Maria Luigia Redoli, se ne parlò molto, non so se ricorderete, forse eravate molto giovani, ma insomma una trentina d'anni fa. Era sola e malata, assistita dalle badanti, i vicini ignoravano il suo passato, l'aiutavo, mi diceva che ero un angelo. 40 anni di giallo in Versilia, dal caso Lavorini, 1969, fino alla scomparsa di Velia e Maddalena. Insomma, questo era l'inserto della nazione. Allora, dobbiamo fermarci per la pausa pubblicitaria. Quando torniamo, caro Giannicola, vediamo subito le immagini del trofeo Renevacci, così ci racconti qualcosa, perché quest'anno avete voluto esagerare due giorni. Ne parliamo subito dopo la pausa pubblicitaria. 8.45, ancora in diretta dagli studi di Buongiorno con noi, compagnia di Giannicola Baccia e Angela Gironi della ginnastica ritmica Lucca. Allora, è arrivato il primo messaggio, vi ricordo, 360 1038 330, mi dovete ancora mandare messaggi su Morricone, sul grandissimo premio Oscar. Ci hanno messo un po' a dargli il premio Oscar, come si dice. Poi, per fortuna, prima che ci lasciasse, speriamo che ci lasci a 100 anni, insomma, gliel'hanno dato. È arrivato il primo messaggio, Giannicola, che dice, parlando del trofeo Renevacci, intitolato a tua mamma, uno dei trofei più prestigiosi in Italia. Ogni anno sempre meglio organizzato, un'atmosfera che ormai si respira da poche parti, esperienza unica per tutti e ragazzine. Direi, insomma, un bel attestato per quello che avete fatto in 10 anni ormai. Esatto, noi siamo contentissimi, questa era un'edizione speciale di 10 anni, la soddisfazione si vederà il fatto che nell'ambiente della ritmica, sui social, ormai è diventato un sostantivo, si dice il bacci, si parteciperà al bacci per dire che ormai è diventato un appuntamento. Che è anche abbastanza conosciuto ormai. Esatto, sì, sì, le società che vengono vengono dalla Sicilia. Perché sono arrivate da tutta Italia? Da Catania, Roma, società di Serie A, Genova, Bergamo, Padova, vengono veramente da tutta Italia e le società di Serie A. La cosa più bella è che partecipano le più grandi di società d'Italia, vengono a provare i loro esercizi perché poi si preparano per le gare del campionato che faranno di lì a poco e ormai è diventata una realtà consolidata. La soddisfazione per noi è appunto vedere a Lucca, perché in un contesto, diciamo così, un po' inconsueto per loro, uno dei trofei più importanti d'Italia ormai. La federazione ci dà la sua approvazione ogni anno, a Roma viene proprio approvato nei consigli federali il trofeo ormai, anzi, se non lo facciamo più penso che sia un po' un problema per la federazione perché è diventato veramente un appuntamento importantissimo. Era il decennale, per il decennale, ora io dicevo prima avete voluto esagerare, avete giustamente voluto, proprio per ricordare anche i Rene, fare qualcosa ancora di più. Esatto, è stato un traguardo. Di più ampio, di più, due giorni addirittura. Esatto. Avete allargato la competizione a due giorni, sabato e domenica. Esatto, per i dieci anni abbiamo voluto esagerare, abbiamo fatto due giorni di gara, infatti si è svolto sabato 5 e domenica 6 e questo ha portato ovviamente un numero di partecipazioni impressionante, più di 250 ginnaste con esercizi individuali e di squadra. Quest'anno c'era la novità della partecipazione anche delle squadre, i team, l'abbiamo chiamati, che partecipavano la domenica e questo ha alzato ovviamente il livello di qualità della gara. Quindi abbiamo avuto dei riscontri anche da società, quelle che poi hanno vinto, poi parleremo magari anche dei nomi. Sì, poi nella questione tecnica entriamo dopo con Angela, quando purtroppo ci avrai lasciato. E niente, quindi vabbè, due giorni di gara, cosa vuol dire a livello organizzativo? A livello organizzativo vuol dire che… Proprio raddoppiare gli sforzi in tutti i sensi? Sì, allora innanzitutto, la cosa che ci tengo a dire è che una gara noi per farla in quei due giorni la organizziamo già da un anno prima. Quindi c'è un anno di preparazione. Non è che arrivi lì le 4 di gennaio di ci domani facciamo il trofeo. C'è un anno di preparazione, di rapporti con gli enti, le istituzioni, abbiamo dei rapporti con la regione, la provincia, anche col comune di Lucca che organizzano l'evento di due giorni al palazzetto di Lucca con gli impegni che ci sono nel palazzetto, non è facile ritagliare il nostro spazio. Anche i calendari, ad esempio, del campionato di basket sia maschile che femminile vengono fatti, cioè voi fate questa richiesta di avere il palazzetto, di conseguenza non è che quel sabato, quella domenica, nel basket Lemura, nel basket Genova, potevano giocare lì. Fortunatamente il comune di Lucca ha capito l'importanza, viene sempre l'assessore, addirittura il sindaco e quindi quando c'è da stilare il calendario delle squadre anche di Serie A, di pallacanestro, tengono conto delle nostre esigenze, ma il trofeo è di Serie A. Sì, ma mai si fa tutto col computer, quindi è semplice. Sì, ma infatti il comune di Lucca ci aiuta, anche l'ufficio sport, insomma, senza di loro non riuscire a farlo. A proposito di palazzetto, avete il problema perché molte società, purtroppo, hanno il problema con gli impianti. Voi come siete messi? Allora, con la nostra attività noi utilizziamo due impianti, infatti da quest'anno, in base a quei numeri di cui parlavamo anche prima, abbiamo preso un'ulteriore palestra per l'attività delle nostre ginnaste, che appunto fanno i corsi le più piccole e fanno anche il settore agonistico, per cui la difficoltà è avere più palestre, più ore, poter dare maggior possibilità alle famiglie di usufruire di questo sport, è un po' un problema comune di tante società, insomma, ci si prova. Il trofeo e le baci su due giorni è stato un episodio, nel senso del decennale, o pensate comunque di riproporlo anche nel prossimo? Allora, no, è stato un successo. O ci state facendo una riflessione, fammi capire. Ci stiamo facendo una riflessione perché è stato un successo organizzativo, quello senza dubbio è andato tutto liscio, però per la mole di lavoro che c'è stata stiamo riflettendo se farlo ancora di due giorni, perché lì vuol dire due giorni ma 13 ore al giorno di gare, non è due giorni una gara che dura due ore, è una gara che inizia la mattina alle 9 e finisce la sera alle 8. Per due giorni, vi rendete conto che non può farti... Con lo speaker siete coperti, no? No, Angela, che dici? Cioè, tu chiamavi gli atleti, poi non so se i punteggi vengono subito dati, se li devi comunicare... I punteggi sono live sul Gym Results, insomma, questo sito... Quindi il tuorolo era quello di chiamare l'atleta? Sì, di chiamare l'atleta, presentare le premiazioni... Accidenti! Ci sono tutta una serie poi... E tu per 13 ore il sabato e 13 ore la domenica sei stata con un microfono in mano? Ma io faccio logopedia, eh! Fai? Logopedia! Ah! Se no non ce la potrei fare, faccio tutti i miei esercizi preparatori, ma è una cosa stancante. L'attenzione... Perché poi guarda, Guido, non è tanto... Sì, va bene, va bene tutto, ma la prima cosa che noi dobbiamo sempre tenere a mente sono le ginnaste. Quindi anche il chiamare le ginnaste in pedana deve rispettare un certo ordine, un certo... Non puoi sbagliare il nome, non puoi sbagliare l'attrezzo quando chiami la ginnasta. Perché la ginnasta, se non sente chiamare il suo nome e il suo attrezzo, prende un momento di panico e può... Quindi la puoi anche condizionare negativamente. Certo, certamente, certamente. Non è un caso che io faccia la speaker. Nel senso... C'è un ruolo che mi stai dicendo che non lo puoi affidare. Anche a uno che magari lo fa di professione. Bravo, perché... Guido Casotti non lo potrebbe fare. Guido Casotti lo potrebbe fare, dopo che le abbiamo spiegato bene... No, non credo di no. Magari chiamo le clavette invece, come se invece c'è la palla... No, poi ci sono dei tempi ben... No, 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 non credo che sia una cosa semplice. Bisogna essere... La cosa più importante sono le ginnaste. Il centro del nostro mondo, di qualunque gara, sono le ginnaste. Che comunque sono bimbe, perché quando sono grandi hanno 16 anni, 17 anni. Sono piccole, hanno bisogno di avere delle certezze, per cui quando sono lì, fuori dalla pedana, ho bisogno di sentire, chiamare il mio nome e l'attrezzo che ho in mano. Intanto vediamo le immagini, io non me ne intendo, io non me ne intendo, non so. Gian Nicola, tu per tua mamma, tuo papà, tutto quanto, la famiglia. Ora, mi dici, la parte tecnica la lascio ad Angela, però un pochino di... Ormai, insomma, come te passo il livello tecnico. Ma dobbiamo intanto fare subito i complimenti alla ginnastica, ne parliamo spesso, non è? Alla ginnastica moto di Diareggio, magari gli amici della moto ci stanno anche seguendo. Perché veramente, Gian Nicola, hanno confermato di essere una società davvero tra le migliori in assoluto in Italia. Loro hanno vinto la gara team per la Serie A e la gara team della Serie C. Sì, loro hanno delle ginnaste meravigliose. Al di là della Galchina, come si chiama, della Bialorussia, che è una campionessa. Però proprio tra le ragazze italiane, tra le loro ragazze, hanno ragazze... Hanno un bellissimo vivaio, hanno un bellissimo vivaio e lavorano molto bene. Da fargli i complimenti, davvero. Ginnastica moto di Diareggio, davvero molto, molto bravo. Stanno arrivando altri messaggi, ora lo leggiamo. Possiamo sfumare queste immagini, tanto poi nella seconda parte ci torniamo con Angela ed entriamo un po' più nel dettaglio tecnico, così spieghiamo anche a quelli che magari ci seguono stamani, che vivono di Juve, di Inter, di quelle cose lì, di quella rovaccia lì. No, scherzo. Cos'è la ginnastica ritmica, che è uno sport veramente, una disciplina veramente meravigliosa. Meravigliosa. Il Tirreno di Lucca deve andare un po' di corsa con la rassegna stampa, che apre invece con l'assassino di Vania, ricorre in Cassazione, i legali di Russo cercano lo sconto di pena. Io, un po' perché ci sono loro, perché abbiamo poco tempo, non voglio commentare, però perché questi giorni si è parlato molto di Battisti, c'è chi diceva gli darei tre gastoli, mi dovete spiegare che differenza c'è tra uno o due o tre. Quando gli avete dato uno? Sta dentro per tutta la vita, non è che vive tre volte, no? Al di là di questo, anche sugli sconti di pena, su queste cose, ci sarebbero da dire tante cose. Bisognerebbe chiederlo tutto questo, credo, perché lo conosco, al papà di Vania, cosa ne pensa? Va bene, ok? Agosto 2016, il crimine che scosse l'Italia intera, non solo Lucca, è vero. All'interno, doppio spettacolo sotto le mura, Elton John ed Ennio Morricone, davvero una coppia d'assi in questo caso. Ecco, dobbiamo purtroppo leggere anche addio a Silvia Bulken, imprenditrice, impegnata in politica, pensate, se n'è andata, guardate, volto pagina perché mi fa troppo male, anche se non la conoscevo, se n'è andata a soli 55 anni. Andiamo al Tireno di Via Legge, anche qui vi leggo proprio le notizie principali. Ogni giorno una ventina di SOS per i tubi rotti dell'acquedotto. Questa è una cosa così, che lascia un po'. Le chiamate partono soprattutto da Camaiore e Massarosa, quindi c'è da essere un sotterraneo di tubazione in Versilia, probabilmente un po' più soleto, mi sembra di capire. I due comuni dove la rete idrica è più vecchia e deteriorata, ma non solo perché poi non arriva l'acqua, ma perché magari anche quando arriva se i tubi sono deteriorati, sono vecchi, sono pieni di ruggine, poi dopo che acqua arriva in casa. Gaia ha in programma 32 milioni di investimenti fino al 2022 per cambiare tubature, vasche e serbatoi. Vabbè, e allora amici di Gaia, veloci, le segnalazioni dei guasti in Versilia, c'è tutta la tabella, mentre si parte anche quei lavori alla terrazza della Repubblica di Viareggio, vi leggo poi per quanto riguarda, anche qui c'è la vicenda a pagina 2 e 3, ricordo della circe della Versilia e poi Forza Italia contro l'ammiraglio per l'acquisto di una casa, la famiglia del venditore contrattacca, compravendita avvenuta quando Tarsi era Civitavecchia e il prezzo è del tutto in linea con le quotazioni del mercato. Quindi questa vicenda ha coinvolto anche l'ammiraglio Giuseppe Tarsia che vediamo in questa foto. Poi attenzione, vi leggo questa e poi davvero leggiamo il messaggio e poi dobbiamo fra poco congettare anche Giannicola Paci. Paolo Prosio, lo conosciamo tutti Paolo Prosio, era l'inviato del leggendario, lo chiamo così Emilio Fede a tempi di Tangentopoli, lo ricordavo, davanti a, ormai penso gli potevano a fare una statua davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Paolo Prosio, naufrago, poi dopo diciamo che si è convertito e diventato una persona molto pia, molto religiosa, all'Isola dei Famosi, quindi Paolo Prosio all'Isola dei Famosi, non sarà facile, dice Prosio, tra l'altro come sapete è un versiliese doc, il giornalista dal 24 gennaio sarà concorrente del reality, dice Paolo Prosio, lo userò come megafono per i progetti di solidarietà. Allora, qui è tanto e col suo mentor, ovvero Emilio Fede, il tempo passa, guardatelo in questa foto, il tempo passa davvero per tutti, però Emilio Fede, indipendentemente dalle idee che uno si può aver fatto, di come conduceva a telegiornali. Va bene, dai, leggiamo questo messaggio Giannicola, poi davvero ti dobbiamo congedare, leggiamo questo messaggio, dice Trofeo Irene Bacci, bellissima manifestazione, organizzazione ottima come sempre, complimenti Ritmica Lucca, penso che insomma da Presidente ti farà piacere. No, no, siamo contentissimi. Dai, ti stanno sollecitando, in pratica ti stanno dicendo, due giorni anche il prossimo anno. Angela non l'avevo molto convinta, due giorni anche il prossimo anno. Diciamo che le prime reazioni quando usciamo da questa maratona massacrante è, appunto, non lo facciamo più. Ah, addirittura? La prima reazione è che dobbiamo riprendersi e poi piano piano cominciamo a incontrarsi, tiriamo fuori nuove idee, ogni anno si inventiamo. Dai, vabbè, adesso, siccome tra un minuto veramente ci devi lasciare i nostri studi. Gennaio 2008 mi sembra il primo weekend di gennaio. Sì, sì, è sempre il primo. Gennaio 2000, ma, gennaio 20. Parliamo di 20-20. Mi sembra, mi sembra. È l'anno delle Olimpiadi. Sì, a Tokyo. Sì. Gennaio 2020, Trofeo Irene Bacci, c'è. Sì, quello sicuramente. A questo intanto ce lo puoi dire. Da verificare, sì. Se farlo un giorno o due. Poi vediamo anche, diciamo, noi ci confrontiamo spesso con la federazione, per cui è una cosa che poi parliamo anche con loro, vediamo cosa possiamo fare. Però avete il sostegno, mi sembra, della federazione. Certo. Che è la federazione ginnastica, no? Sì, sì, la federazione ginnastica italiana. Che comprende sia ginnastica e la stessa, ginnastica e artistica. L'artistica è venuto anche a presenziare il Presidente del Comitato Toscano, quindi il Presidente della FIGI Toscana, Lufi, è venuto, poi vengono i consiglieri nazionali, anche a livello, diciamo, di istituzioni, è una vetrina anche per tutti, è diventato un appuntamento dove, insomma, è conta farsi anche vedere in quei contesti. Abbiamo, io dico una cosa, abbiamo tanti problemi a Lucca, a cominciare da quello della viabilità, del traffico e purtroppo anche dell'area stessa, quando ci sono questi... Ora pare che da domani forse piove, quindi, diciamo, dobbiamo dire anche forse piove, perché, insomma, poi ci vuole anche quella, no? Abbiamo tanti problemi, però abbiamo anche delle cose, abbiamo letto stamani, ad esempio, una manifestazione come il Summer Festival, i comics, alcune manifestazioni sportive, alcune realtà sportive, vabbè, stendiamo al momento un velo sulla Lucchese vedendo quello che succederà, però, insomma, dai, abbiamo anche delle cose buone, se no, davvero sembra di essere solo dei disfattisti e bisogna essere realisti, sì, disfattisti mai. Giannicola, io ti ringrazio di essere stato con noi, eh? Grazie a voi, grazie... No, e noi abbiamo cercato di dare lo spazio prima, durante e dopo, però, insomma, poi anche durante l'anno, tutte le vostre attività, di cui parleremo tra poco con Angela Gironi. Ci fermiamo per la pausa delle nove, vi ricordo ancora 360 10 38 330 se volete intervenire, tra poco torniamo con Angela Gironi, ringrazio ancora Giannicola Bacci e quindi linea alla regia, ma, insomma, fra pochi istanti li siamo qui. Bene, eccoci tornati, sono le nove e un minuto, trascorso da poco, siamo rimasti in compagnia di Angela Gironi, che è sempre qui con noi, abbiamo salutato il presidente Giannicola Bacci. Allora, Angela, entriamo un po' più nell'aspetto tecnico, ricordando che la ginnastica ritmica, a differenza della ginnastica artistica, dove ci sono degli attrezzi come gli anelli, come il cavallo con maniglie, le parallele, come si chiamano, altri attrezzi su cui, diciamo, le atlete si esibiscono, no? Certo, sì, sì, sì. Allora, intanto, a differenza della ginnastica artistica, quantomeno in Italia è ancora uno sport solo femminile. La ritmica. La ritmica, mentre l'artistica ha una parte maschile e una parte femminile. La ritmica ad oggi, anche se ci sono delle sperimentazioni piuttosto interessanti anche sul settore maschile, ad oggi è uno sport solamente femminile. Ma perché in altri paesi è anche maschile? Si sta cominciando a fare delle sperimentazioni in Spagna, in Giappone, che, diciamo, però ancora non sono stati recepiti dall'Europa, intesa come federazione ginnastica internazionale e italiana in particolare. Gli attrezzi della ritmica sono i piccoli attrezzi, vengono così chiamati. Per esempio questa ragazza che vediamo fa la fune. La fune. Abbiamo la fune, la palla, il nastro, le clavette e il cerchio. Il corpo libero che viene, per esempio, credo nell'artistica, il corpo libero rimanga sempre, per gli atleti, nella ginnastica ritmica, quando diventi junior, più o meno, il corpo libero viene abbandonato. Anzi, addirittura, nella serie A e B e C, fino all'anno scorso c'era una allieva o junior di prima fascia che facevano un esercizio al corpo libero, dal 2019, cioè da quest'anno, non c'è più. Corpo libero nei team A, B, C non c'è più. Quindi noi andiamo di attrezzo. Ma quest'atleta non ha niente, invece? Infatti questa è una piccola allieva che fa il corpo libero. Stiamo parlando. Fa il corpo libero. Ma c'è una specializzazione, a parte se sono atlete, queste quanti anni hanno? Queste sono piccole? Beh, questa se è un allieva non ha 12 anni, quindi può averne 12, 11, 10, 9. C'è una specializzazione sull'attrezzo o no? Ma allora... O loro fanno di tutto, comprese le vostre come ginnastica? Il campionato gold, diciamo quello nazionale, prevede l'utilizzo di quattro attrezzi. Quattro attrezzi che di anno in anno possono cambiare. Quest'anno rientra la fune, esce il cerchio in alcune categorie. Insomma, in teoria le bimbe che fanno gold devono fare più o meno tutti gli attrezzi. Poi ci sono dei campionati cosiddetti di specialità, dove le ginnaste possono portare fino a tre attrezzi nella fase regionale, due attrezzi alla fase nazionale, se qualificate. Ecco, ma di solito le ginnaste hanno una loro, diciamo, preferenza, propensione? Si trovano meglio magari con un attrezzo invece che con un altro? Oppure capita che molte ginnaste indifferentemente... No, diciamo che c'è un attrezzo preferito, anche perché gli attrezzi viaggiano un po' anche con quelle che sono le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'atleta. Un atleta molto flessibile, molto morbida, ovviamente si troverà meglio con una palla che non con una fune, dove c'è da saltare, per esempio. Quindi è chiaro che la morfologia della ginnasta ti aiuta un po' più o un po' meno rispetto all'attrezzo, però è ovvio che gli attrezzi vanno maneggiati tutti. Senti, abbiamo detto prima, abbiamo giustamente ricordato i grandi risultati della moto Viareggio, poi c'è la solita Aurora Fano, squadra marchigiana che tutti gli anni si comporta molto bene. Voi come è andata? Come vi siete presentati? Chiaramente questa era la prima volta che noi ci cimentavamo in una gara gold di team, perché le nostre ginnaste parteciperanno nel 2019 al campionato di Serie C e quindi per noi è stato il battesimo dell'anno. Adesso questo è il tavolo della giuria, se non so. Vorrei spendere due parole, se vi permetti, anche per la giuria, perché intanto che il nostro trofeo ha un impatto ormai a livello nazionale, noi lo vediamo da due cose. Il primo è che non appena inviamo la mail con l'invito al trofeo, io ti garantisco che nel giro di quattro ore avevamo già otto società iscritte. Nel giro di quattro, ma l'abbiamo mandata a ottobre, nel senso, è dalla giuria? Noi ormai sono qualche anno che abbiamo una giuria… Questi sono giudici di gara nazionale, no? Ti racconto un piccolissimo aneddoto, una tecnica di una società non nostra, non toscana, si è affacciata alla pedana prima dell'inizio della gara, ha guardato la giuria e ha commentato Mamma, ma siamo al nazionale? No, scusami, siamo al mondiale? Allora, noi avevamo una giuria superiore dove c'era l'Emanuela Agnolucci che normalmente segue le farfalle e il team Italia. Ecco, le vostre atleti sono chiamate farfalle. Le nostre atleti sono chiamate farfalle. Ma anche quelle dell'artistica, no? Quelle mi dicono che sono fate. Fate, fate. Sì, due terremi molto belli, sia farfalle che fate sono… Che rendono, rendono l'idea. Ma sì, rende l'idea perché, ora guardate anche questa… io dico bimba perché poi di solito hanno fisici anche abbastanza minuti, no? Sì, sì, sì. Penso che per fare questo sport non è che poi… La leggerezza aiuta. Eh, eh, quindi… La leggerezza aiuta. La leggerezza aiuta. Guardate, sembrano proprio ora indipendentemente dal livello, dalla bravura, però veramente sembrano… Nel troppo baci il livello è comunque… Eh, no, 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 certo, certo, certo. E quindi tornate alla giuria di primissima qualità. La giuria di primissima qualità, a parte che avevamo cinque giudici internazionali, tutte giudici nazionali, le restanti, tranne quattro che erano di secondo grado, che hanno fatto la parte prettamente dei falli tecnici. Quindi avevamo, in giuria superiore, tre giudici internazionali che normalmente giudicano ai mondiali. Eh, quindi tutto dire. Ho visto spesso la corda, ma c'erano anche gli altri attrezzi? C'erano anche gli altri attrezzi, ma in questo momento qui probabilmente era in pedana… Quando sono il nostro camera mi era impegnato. La categoria A3, i cui attrezzi erano corpo libero e fune. Per esempio nelle A2 erano altri due gli attrezzi… Dipendeva un po' dalla categoria di appartenenza. Dipende dalla categoria. Certamente nella stessa categoria le ginnaste fanno esercizi con gli stessi attrezzi perché possano essere, diciamo, classifiche equiparabili. Dei risultati delle vostre ragazze siete rimasti soddisfatti? Molto soddisfatti. C'è ancora tanta strada da fare, ovviamente, perché… Molto soddisfatti. Anche se si va a Roma in un'ora, ci vuole il tempo giusto per arrivare… Giusto, anche perché, ripeto, le nostre ragazze hanno cominciato lo scorso anno, le grandi, un percorso, diciamo, per arrivare a questo campionato di Serie C, che noi contiamo di fare quest'anno come una grande prova pedana e di puntare a dei risultati significativi… Quest'anno, quali sono i tempi? Parli da settembre? No, no, a febbraio. Già adesso? A febbraio comincia? Comincia a febbraio, sono tre prove interregionali, finisce a marzo, poi le bimbe vanno le loro gare individuali, ovviamente, perché… E lì sono come le categorie del calcio, visto che poi si è un'appassionata anche di calcio. Certo, A1, A2, B e C. La motto è in A1, per esempio. E certo, certo. E arriva anche piuttosto bene. Hanno quella, la ragazza a Bielorussia, a Bielorussia è una bella… È una bellissima ginnasta, però io, come ti ho già detto prima, loro hanno delle bellissime ginnaste in proprio, italiane. Diciamo, la fanno gareggiare nel campionato perché poi penso fanno la stessa cosa anche le altre società, però diciamo che hanno un gruppo fortissimo indipendentemente dalla loro straniera. Indipendentemente da questa Caterina Galchina, no? Galchina, Galchina, via. Torniamo ai giornali, cara Angela, perché dobbiamo vedere le prime pagine dei giornali nazionali. Stavo controllando i siti, non ci sono notizie dell'ultima ora, quindi vi faccio vedere il cartaceo. Alcol e fumo, più controlli sui minori. Dossier, il ministro, verificare vendite ed età. Cannabis shop sotto tiro. Poi si parla molto in questione della Brexit. Il Parlamento boccia il suo accordo, oggi la sfiducia, catastrofe mei. Quindi rischia veramente di ritornare tutto in discussione. Morta alla circe della Versilia, anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Uccise il marito con l'amante, era ricoverata all'ospedale di Arezzo, aveva 80 anni. Juncker pentito, l'austerità fu un errore. Ed ancora Battisti in cella, malato e vecchio, sono cambiato. Tu hai dei figli, Angela? Due. E purtroppo la piaga, cioè la piaga. Il problema dell'alcol già nei ragazzi abbastanza piccoli, spesso minorenni, è purtroppo diffuso. Da genitori c'è da essere preoccupati. Molto. Io ho la fortuna di avere due figli che non bevono, ma non bevono veramente, nel senso che anche a casa se proviamo… La Repubblica. Brexit. May sull'orlo dell'abisso. Il voto del Parlamento umilia la Premier, bocciato l'accordo con l'Unione Europea, ma io non mi dimetto, dice la May. Corbyn presenta la mozione di sfiducia. Oggi il verdetto. Bruxelles non esclude una proroga. Reddito a rischio taglio a segno di 390 Euro, quindi si parlava del reddito di cittadinanza, mi sembrava sui 700. Adesso mi pare che già si… è tutta una questione di coperture. Ci sono soldi per il reddito di cittadinanza? È questo che uno si domanda. Ci sono soldi per far andare la gente in pensione quando sarebbe l'ora? Il problema è che ci sono soldi. E se non ci sono, questa domanda, dove sono finiti? Chi l'ha presi? Fatevi ogni tanto anche queste domande. Poi ancora sulla prima pagina della Repubblica, la super poliziotta Battisti, ha detto questa super poliziotta, che era una di quelle probabilmente vicina a Cesare Battisti, mi ha chiesto una cosa sola, di lasciargli la foto del figlio. E questo comunque credo che sia una questione anche per un personaggio così controverso, così come volete, simbolo chiamiamolo pure del male, no? Perché insomma ha fatto delle cose, però insomma questo penso che sia un gesto cristiano, umano, no? Averi lasciato la foto del figlio. Brexit cosa succede? Che dati si è fatta? È un'Europa che fatica ad essere quello che forse in modo, ora non so, non voglio entrare in un argomento in modo un po' utopistico, leggevo qualche anno fa, leggevo Stati Uniti d'Europa, che sinceramente mi veniva da ridere, perché gli Stati Uniti d'America sono una cosa, gli Stati Uniti d'Europa è tutta un'altra storia, è tutta un'altra vicenda, qui ci sono 27 paesi che ognuno ha la sua lingua, ha la sua storia, la sua tradizione, Stati Uniti d'America sono nati dalla confluenza anche di tanti popoli con un popolo che è stato cancellato via, che era quello che già si trovava sul territorio americano, ed è un'altra storia, la storia è anche recente di 240 anni fa, 1776 mi sembra, sono 242-243 anni fa, Angela che dici? Io ritengo che la lingua sia il collante principale per l'unione di un popolo, dicono che l'Italia l'ha unita la televisione, quando ha insegnato a tutti gli italiani, l'italiano. Il maestro e compianto maestro Alberto Manzi negli anni 60 che stava a questa lavagna, molti hanno imparato a scrivere e a leggere con il maestro Manzi. E quindi il fatto che in Europa invece si parlino tante lingue diverse, rende più difficile al di là delle tradizioni, della storia, è più difficile. 70 anni fa l'Europa era un cimitero di croce, è stata nei primi 45 anni del secolo scorso ci sono state due guerre terribili, devastanti, con un milione, io fra la prima e la seconda guerra mondiale credo andremo solo in Europa, penso sui 100 milioni di morti, capite che sono passati 70 anni, però non è facile, non è facile, lo vediamo, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane, tra due popoli che pure dovrebbero essere tra i più vicini, come Italia e Francia, come pure, anzi visto che siamo cugini, non è fai, Stati Uniti d'America sono un'altra cosa, sono un'altra cosa. Io personalmente ero a Londra i giorni prima del referendum, che cosa hai auscultato? A Londra pareva veramente che avrebbero vinto quelli che volevano rimanere in Europa, per me è stata veramente una grande sorpresa perché non me lo sarei mai aspettata. Ma perché l'Inghilterra, diciamo la Gran Bretagna, perché qua la Gran Bretagna è Inghilterra, Scozia, io le vedo in Europa comunque, al di là del concetto di Stati Uniti d'Europa che purtroppo non le... Infatti è difficile che riescano ad uscire. Io li vedo in Europa gli inglesi, non è che li vedo, dove li vedo, li dobbiamo vedere gli inglesi, vedo molto meno in Europa altri paesi che pure ci sono, ad esempio quelli geograficamente verso l'est, l'est, faticherei, ma per quello che succede ormai da un secolo da quelle parti a vedere in Europa la Russia, sinceramente, ma per quello che succede da un secolo, dal 1917 lì, perché se dal 1917 fossero successe, la storia fosse andata diversamente, e la Russia sarebbe l'Europa tutto sommato poi. 360, 10, 38, 330, siamo andati a parlare anche di politica internazionale. Tra poco, quando torniamo, carangela, parliamo di sport, se è una che lo sport lo vive, mi sembra abbastanza intensamente, allora ti farò, andiamo a leggere il giornale e ti farò, ti solleciterò, via, alla linea e alla regia, Gian Piero Pucci, se volete mandare gli ultimi messaggi, 360, 10, 38, 330, anche su quest'idea di Stati Uniti d'Europa, non lo 9.16, eccoci tornati per l'ultimo spazio di questa puntata di oggi, mercoledì 16 gennaio 2019, di buongiorno con noi, siamo rimasti con Angela Gironi della ginnastica Ritmica Lucca, vi ricordo nella prima parte è stato con noi anche il presidente Gian Nicola Bacci, mi dicevi Angela che tu sei stata già diverse volte a Londra e ci tornerai anche tra pochi giorni, mi ha definito questa città, io non ci sono mai stato, ma mi dicono bellissima, veramente straordinaria sotto tanti punti di vista, è la più europea delle città europee, è una città dove trovi veramente tutte le popolazioni europee rappresentate in tutti i posti di lavoro, non solo nei negozi, anche tanti italiani se non sbaglio, certo, certo, a parte noi italiani siamo tutte le parti, ma veramente, è una città veramente multieuropea più che multietnica, anche multietnica, quindi non si capisce perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna, diciamo l'onda debbano stare fuori dall'Europa, questo isolazionismo, ho tanti figli di amici, ho tanti amici miei e figli di amici che lavorano là ormai stabilmente da tempo, anche io ho persone che conosco che lavorano là, vuol dire che sono tanti, tanti, Pucci hai qualcuno che lavora a Londra che conosci? Tanti, come ora non esagio, come tanti? Tanti amici, eh vedi anche Pucci, lì verrà fuori un problema anche di assistenza sanitaria, perché uscendo dall'Unione Europea uscirà, cioè avranno un problema e l'Inghilterra se questi se ne vengono avrà un problema, possiamo far vedere Pucci ancora questa espressione del primo ministro Teresa May che, guardate, guardate bene, io credo non ci sia bisogno di ulteriori commenti, no qui qualcosa deve succedere, ma speriamo che succeda, io dico sempre, nel modo più ragionevole, nel modo più sensato, cioè che veramente, dai, vabbè dai, da una vicenda comunque molto importante come questa della Brexit della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, altre vicende che sono vicende sportive, calcistiche con questi due personaggi, Iguain e Bonucci, perché alle 18.30, cari amici, si assegna il primo trofeo del 2019, sono andati a Jedda fino in Arabia a giocarla, ci sono anche lì ci sono state polemiche, vabbè comunque si gioca lì, Juve Milan vale la Supercoppa, Iguain ultima chiamata, Bonucci ex al veleno, la resa dei conti. Allora, la Juventina com'è? Si porta a casa questo primo trofeo? Oppure, attenzione, al dente avvelenato di Iguain, a un Milan che sulla carta è nettamente sfavorito, ma non lo dico, non mi dico che è gufo, perché poi non sono neanche milanista, è diventato lo sport nazionale. Per noi interisti forse è meglio se vince la Juve, scusa, tanto la Juve uno più uno meno, continua a vincere da anni, se vince il Milan invece, che ha già vinto la Coppa Italia, non ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, quindi... Poi intanto ti ringrazio che mi hai detto che alle 18.30 perché per me era pacifico che era stasera alle 8.00. Eh, ma c'è il discorso del fuso orario, che ore li fai giocare la mezzanotte, no? C'ho un appuntamento fino a che lo giusti. 18.30, eh? Qui come va a finire? Te la senti di fare un pronostico? No, il pronostico non lo fai, no? Beh, comunque ora obiettivamente... Che dire, le forze in campo ovviamente sono diverse, però le partite secche tu mi insegni che ognuna ha la sua storia. È vero, infatti il Milan aveva già fregato all'anno scorso. Io sono ancora qui che mi rivedo il gol di Magath, quindi... Ha diritto, ma sei giovane! Ti ricordo dov'ero? Ti ricordo ancora il gol di Magath? Mi ricordo precisamente dov'ero. Non me lo ricordo anch'io, eh? 1983. Come dimenticare il gol di Magath? Come dimenticare? L'avevamo già vinta e quindi... No, con la Coppa dei Campioni allora e con la Champions effettivamente la Juve che è una grandissima società, pensate cosa sto dicendo, ma è la verità, è una grandissima società, ha una grandissima squadra, non solo la più forte in Italia, ma una delle più forti in Europa e nel mondo, ha un rapporto che è un po' stregata questa competizione. Conflittuale, conflittuale. L'ha persa in anni in cui, ma tu hai detto l'Hamburgo, mi viene in mente la finale col Borussia Dortmund, ora lascia stare le ultime col Barcellona e Real Madrid e le pochi perde. Ci poteva stare, certamente, anzi. Ha questo rapporto veramente incredibile, cioè la Juve ha vinto considerando l'Isere, vabbè comunque nell'Albo d'Oro. Ma nell'Albo d'Oro c'è, comunque diciamo è due volte, poi quella ai rigori contro l'Alex nel 96. Non so quante finali ha fatto, ha perso il conto, è una cosa incredibile. E quindi vabbè. Quindi un po', le partite secche. Vabbè, hai ragione, hai ragione. Com'è che diventi Juventina? Fammi capire, come si diventa Juventina? Mio papà era un amante del calcio, lui aveva l'abbonamento all'Artemio Franchi fin da ragazzo, quasi, per cui lui andava a vedersi tutte le domeniche alla Fiorentina, quando era in casa, però era Juventino. Era tifoso Juventino però. E ha portato me e mia sorella fin da piccolina allo stadio a vedere… E da lì vi siete appassionati? Sì, poi all'epoca c'era un televisore in casa, lo sai, no? Ah sì sì sì. Nel 70 e quindi il calcio era intoccabile, sacro e quindi ci siamo appassionate tutte. C'era tutto il calcio minuto per minuto, tutte le partite d'inverno alle due e mezzo. La sintesi. La sintesi. Non lo so, però non avevi tutto, non avevi nulla e quel poco che avevi te lo gustavi e lo apprezzavi di più. La cosa che mi piaceva dell'epoca rispetto a ora è che i giornalisti sportivi sapevi perché squadra tifavano quando sono venuti a mancare. Quelli di ora… Ad esempio uno dei più grandi secondo me, uno dal quale veramente sono cresciuto e ho tratto tanti spunti e veramente era formidabile. Sandro Ciotti, al di là della voce, aveva una preparazione non solo nello sport e nel calcio, era preparata anche nella musica, per tanti anni ha seguito il festival di Sanremo e così via. Ecco, io ancora, che purtroppo non è più tra noi, non ho ancora capito in realtà per chi facesse il tipo. Oggi dai ha ragione Angela, ma si esagera poi. Io capisco che uno possa anche avere simpatia, però quando puoi fare un lavoro devi stare un po' sul centro. È qui distante un attimo. Cioè devi essere anche obiettivo, è critico, non è che puoi vedere solo… Va bene dai, allora Rossi accelera già, Valentino Rossi, miglioriamo la moto e poi ci divertiamo. Ma io lo spero, perché ora Valentino ha 40 anni, vederlo come negli ultimi anni, così arrivare a Esimo, sinceramente per un mito come lui fa un po' male. Un mito è sicuramente la scifri nello sci, questa è un'atleta, una sciatrice, credo che veramente passerà la storia come una delle più forti. Schifrin da 10 ha vinto anche quest'altro gigante che è il podio per la Bassino. Poi per quanto riguarda l'Inter, Suning, io non so se si legge Alibaba, ora non vorrei dire una scemata. Suning sicuramente, che è il proprietario dell'Inter, il signor Zhang. Io questo fondo, poi adesso Jack Ma, Alibaba, non lo so, un'alleanza che fa sognare. Poi la Lucchese, la società paga, qui c'è il patron Morriconi, la società paga gli stipendi di Menichini, che a Lucchese in tutto questo marasma si permette di avere due allenatori, sventati altri 4 punti di penalizzazione. Sono comunque, ripeto, ore, giornate drammatiche per la Lucchese. Vediamo un po' come se se ne esce fuori vivi da questa situazione. Vi ricordo domani sera alle 21 saremo in onda con Curvo Ovest. Di tutta questa vicenda della Lucchese, invece, Angela, che idea ti sei fatta? Mentre anche sul Tireno leggiamo pagati di stipendi a Menichini, penalizzazione evitata. Questo signore, questo allenatore, che poi non ha mai allenato la Lucchese, il tecnico fu scelto dal duo Grassini-Lucchese, ha ricevuto 4 mensilità. Intanto il settore giovanile è in subbuglio, perché all'acquedotto non c'è più l'acqua calda, tanto per essere una... Naturalmente se non paghi le bollette poi ti staccano le utenze. Che idea ti sei fatta? In questa situazione clamorosa della Lucchese. Non esiste arrivare a questi punti, veramente non esiste. Purtroppo è un grave danno per la città e per i bambini lucchesi, perché arrivare a giocare nella Lucchese è sempre stato un punto di... Un riferimento. Un riferimento proprio, per cui se arrivavi a essere visto dalla Lucchese, preso dalla Lucchese, era un incentivo a avvicinarsi allo sport e a continuare a praticare lo sport per tanti bambini. Purtroppo secondo me è un po' la società di oggi, i soldi non ce ne sono più, la gente che si approccia al calcio alle volte pensa di farlo per guadagnarci. No, ma poi è gente che si approccia al calcio, ma poi al calcio... Dico facciamoci approcciare quelli che veramente hanno un progetto serio e vogliono fare le cose seriamente. Facciamo approcciare al calcio i soliti, io non li definisco in nessun modo perché poi magari dopo ti querellano anche. Ma i soliti personaggi che poi in realtà non hanno nessun progetto, non hanno nessuna intenzione di fare bene. Possono capitare a Lucchese, sono capitati anche in altre città. Questi, una volta che si sa che basta, non possono, si escludono, non possono fare calcio. Poi voglio leggervi sempre dall'inserto la testimonianza di Vano Fanini che torna su Pantani, dice lo volevo a Lucca, gli dissi smettila, quell'amicizia tra il patrono e il pirata. Talento e sofferenza, Ivano Fanini, questo bell'articolo firmato da Massimo Stefanini, ricorda Marco Pantani, tra l'altro fra poche settimane saranno 15 anni. Sì, era San Valentino, era febbraio del 2004. Io me lo ricordo bene perché ero in trasferta, all'epoca seguivo il Castelnuovo che faceva la C2, con un collega eravamo in trasferta, mi sembra, non mi ricordo dove, era di domenica mattina quando gionse la notizia che Marco Pantani non c'era più. Intanto oggi si giocano le partite di Serie D, noi vi dico subito seguiremo Ghiviborgo-Seravezza che si giocherà a Ponte Terra. Non mi ricordavo dove si gioca perché Ghiviborgo-Seravezza si dovrebbe giocare a Ghivizzano, a Bambiucca. Invece hanno lo stadio. No, perché siccome domenica Viareggio Ghiviborgo si è giocato a Castelfiorentino, oggi Ghiviborgo-Seravezza si gioca a Ponte Terra. No, in questo caso devo dire una cosa, che i giocatori del Ghiviborgo, a cominciare dal loro capitano Matteo Nole, ex lucchese, hanno proprio chiesto alla società di poter giocare su un campo. Ora oggi, quindi hanno anche un bel fardello di responsabilità. L'hanno chiesto loro di giocare, siccome Ponte Terra è sintetico, quindi il campo diciamo che è perfetto, perché a Bambiucca ultimamente il campo non era tanto bello. Qui Viborgo-Seravezza, ma non solo. A Camaiore, ecco perché poi Viareggio, mi viene da ridere, Viareggio-Aquila-Montevarchi si gioca a Camaiore, perché lo stadio dei Pini non è... A Camaiore arriva al Montevarchi, il tecnico Aiello, il tecnico di Viareggio, li trova Noccioli, poi Vangioni si affida al gol di Pegollo, perché il Seravezza ha perso Rodriguez, che è andato a giocare nella Serie C portoghese, e il Real Forte che gioca... Ecco, il Real Forte gioca a Forte dei Mami, meno male, sogna il colpaccio col Prato, dice Mister Brachi, noi giocheremo per il punticino. Chiudiamo Angela, ti faccio vedere questa... Pucci, qui mi devi fare un'inquadratura alla Pucci, eh? Super! Pucci, fammi... Ci sta? Ci stanno questi due sceicchi? Guardate bello, eh? La gazzetta... Bellocce, però... Chi è sceicco? Chi è lo sceicco? Super Coppa Italiana, da questa parte... C'è, resetto. Sembra più sceicco Higuain, eh? Con questa barbetta da Sparviero. Però insomma, anche Ronaldo, che ha sempre questa bronzatura tipo... Lampada. Fabrizio Corona, no? No, non so se è lampada, dai. Lui ha un po' di carnato olivastro, eh? Sì, forse sì. Sì, sì, no, lui... Chi è lo sceicco? Chi è lo sceicco? Bella questa copertina della gazzetta, mentre poi vi propongo anche... Sono simpatici tutti e due, eh? Però insomma... Vabbè, tanto per il mercato Piontek, perché ci hanno detto che si pronuncia così, Diavolo sempre più vicino, andrebbe al Milan, perché Higuain probabilmente va via dal Milan. Leonardo non è andato a Jedda, blizze di preziosi a Milano, indizio, il Genoa frena con il Napoli su Quame. Vabbè, poi c'è Giorgetti, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, sia alla riforma, ma con il CONI serve collaborare in armonia. Il sottosegretario, i compiti del Comitato sulla Preparazione Olimpica non saranno toccati. Poi sono tante altre notizie. Voglio chiudere con te, Angela. Dove va la ginnastica ritmica, Luca? Allora, avete questo impegno adesso del campionato di Serie C? Serie C, però abbiamo anche tanti altri impegni, perché noi abbiamo tante altre bimbe, specialmente le più piccole, ne abbiamo un bel vivaio, bello numeroso, che... Ma chi sono i tecnici? Poi questo non te l'ho chiesto. Ah, i tecnici? Allora, noi siamo un bel gruppo, un bel gruppo affiatato. Perché ce ne vogliono, mi sa, eh? Sì, 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 tutte molto più giovani di me, ovviamente. Abbiamo Federica Viani, che è la nostra responsabile. Eh, abbiamo fatto bene a ricordarla. Tecnica, certamente. Poi abbiamo avuto un gradito ritorno, quello di Sara Lisa Murroni, che è stata la nostra ginnasta, una nostra tecnica, che poi per motivi di studio si era trasferita in altre parti d'Italia e ha allenato una società di Serie A per diversi anni. Sì, avete un bel gruppo tecnici, anche preparati. Certo, abbiamo tre laureate in scienze motorie, che di questi tempi non è così scontato. Persone che s'hanno fatto loro. Perché nella ginnastica è anche facile poter sbagliare a sfavore delle ginnaste. Devo chiudere, se no Pucci mi sfuma. Pucci ha promesso che prima che finisca buongiorno con noi... Ma volevo ricordare solo Chiara, Alice, Marta, Sara, le nostre tecniche. Perfetto, perfetto. Angela, è stato un piacere averti con noi, così come è stato un piacere avere nella prima parte il presidente Gian Nicola Bacci. Mi raccomando, trofeo Rene Bacci e tutto il resto. Sempre avanti così. Ringraziamo Gian Piero Pucci, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato con i loro messaggi, sms e whatsapp. Buongiorno con noi, torna domattina, è giovedì, sempre alle 8.30, in studio c'è la new entry, c'è la new entry di Buongiorno, perché noi dalla settimana scorsa abbiamo un nuovo conduttore che già vedete nel telegiornale, il collega Luigi Casentini, che ha cominciato a condurre anche Buongiorno con noi. Quindi appuntamento domattina alle 8.30 con il collega Gigi Casentini. Grazie di nuovo a tutti voi, tra poco la prima edizione del TG Noi. Buongiorno. Grazie.